benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video è un video tag molto brutto no è un video tag molto forte veramente e non l'ho fatto mai in vita mia questi tipi di video perché non sono il tipo di fasti video perché comunque non riesco più di tanto però dico bene dai per una volta proviamoci allora come vedete vi ricordate altra volta quando ho fatto vedere vedete la postazione degli smalti quando avevo detto dico adesso quando farò un video ecco che mi si vede a me come un video tag eccetera eccetera volevo vedere se nel video si vedeva la postazione smalti era quello che volevo infatti si vede mi piace veramente tantissimo e mi piace tanto quindi ovviamente sono in camera mia ma se accendo la luce qua no ma vedete troppo ero troppo accesa così si mette la luce così forse mi vedete meglio non è meglio così o meglio spenta meglio così si vede meglio insomma dai perché c'ho la luce come vedete quella lì del lampadario che è fiocca c'è luce con le gialle normale semplici questa led proprio della lampada quindi si vede meglio meglio così ma non mi vedete meglio e allora cominciamo subito questo tag questo tag consiste di avere a portata di mano delle forbici uno scotch un bicchiere di acqua con sale che però io il sale l'ho qua dopo vi spiego perché me lo so portata dietro senza che stava lì e poi mi pare basta a questo tag si chiama paura ansia con il tag del coraggio l'ho visto nel canale di cristal ciao tesoro un bacio grande e sì lo correte per il tag infatti serve forbici acqua più sale più cucchiaino a non sono scordata la molletta da prendere adesso lo vado a prendere tanto vi spiego poi sto per video lo riprendo la molletta mi sono scordata vabbè il cucchiaino era per miscelare il sale vabbè vado a prendere anche quello muscolata insomma tutte queste cosine qua e sono dieci domande pericolosissime va bene sperando che mi riesce bene questo tag allora io adesso sto per video quindi l'occorrente serve le forbici bicchiere più sale lo scotch la molletta il cucchiaino vabbè per girare l'acqua col sale insomma eccetera e vi lascio comunque vado a prendere la molletta e vi lascio questo tag eccomi qua allora cominciamo subito comunque fatemi sapere sotto a questo video nei commenti se vi va bene così la luce è meglio così accesa oppure così un po fiocca insomma fatemi sapere voi però io credo che è meglio più così mi vedete meglio insomma ecco allora cominciamo subito io l'ho visto sul canale di cristal e non mi ricordo chi l'ha ideato perché lei lo ha detto però dopo comunque lo scriverò nel titolo di questo video allora cominciamo subito la prima domanda dice manda un messaggio vocale su whatsapp ad una persona a tua scelta devi diri devi dire mi puzza il culo rispondimi con un messaggio vocale allora io glielo mando a roberto perché l'unico penso che mi potrebbe rispondere poi dice chi ha preso questa va bene io lo mando qui su huawei però noi lo mando su whatsapp e lo mando su messenger perché qua come vedete questo è huawei ho cancellato tutte le robe eccetera eccetera col telefono nuovo e noi su whatsapp è difficile che ci sentiamo sempre su messenger quindi invece che su whatsapp io lo mando su messenger va bene vado guardate vero eh questo roberto eh vado eh no com'è che era eh mi puzza il culo rispondimi allora gli devo dire scusate ehm dove sta non pensavo che non stava a registrare un attimo allora eh mi puzza il culo rispondimi con un messaggio vocale mi è da ridere ok seri vado mi puzza il culo rispondimi con un messaggio vocale ve lo faccio sentire eh aspetta eh mi puzza il culo rispondimi con un messaggio vocale cioè era tipo otto minuti fa lo vediamo perché comunque sta al lavoro ok la prima e l'abbiamo fatta quindi il coraggio l'abbiamo preso oddio facciamo facciamo la seconda domanda passiamo mi dice tagliati una piccola ciocca di capelli fallo ora ragazzi a me mi dice di toccarmi i capelli o mi muro sì ma io me ne taglio proprio pochi pochi eh mi ciocca di capelli ma perché devo fare sta cosa aspetta ragazzi ragazzi sì ma io me la taglio proprio la punta ragazzi non è che ve lo faccio vedere tagliata bene ho dei capelli tagliati un po' così va bene aggiornati l'ho perso e non sono qui sopra ok poi questa l'abbiamo fatta eccolo qua vabbè manco si vede eccoli qua vedete quanto è il nero tagliati aiuto un po' di meglio pelli no vabbè patta allora no perché l'ho fatto vabbè mi impunta non manco si vede vabbè allora andiamo avanti terza domanda se leggendo questa domanda ancora non hai ricevuto risposta vocale dal tuo amico per penitenza devi ciucciarti un dito pucciarlo nel pepe e lecarti il dito qui dice la cosa che ho fatto prima ho mandato messaggio vocale mi puzza il culo a Roberto insomma il mio ragazzo io l'ho mandato e se non ti risponde allora io mi ciuccio solo il dito perché il pepe non ce l'abbiamo che è difficile che lo usiamo quindi mi ciucciarlo il dito buono sai cioccolata ok questo è fatta ma paro un di cappata poi quarta domanda ti manca il mare? ecco questa è brutta lo so bevi un po' di acqua salata tra parentesi sale in un bicchiere d'acqua allora siccome uno non ci può credere tante volte che qui già ci ho messo il sale infatti ancora non ce l'ho messo io apposta mi sono portata la scatoletta così vedete voi effettivamente che metto il sale qui dentro e che questa cosa la faccio veramente che uno può dire io non avevo portato la scatola del sale e farvi vedere qui c'è il sale invece c'è solo l'acqua e poi se lo fa finta invece no a me piace fare se lo fa una cosa lo fa fatta per bene così a cacchio insomma ok noi apprezziamo il cucchiaino eccolo qua l'ho preso e mettiamo un po' di tale proprio poco eh è già tanto che lo faccio quindi poco eccolo qua lo vedete bene rischiamo il tutto aiuto che roba brutta bevi un po' di acqua salata vado coraggio è un tag del coraggio che è tale mamma mia che schifo mi ha salto il sale aiuto il respiro che schifo basta ok ce l'ho fatta anche questa oddio questa vabbè passiamo alla quinta domanda metti una molletta sulla lingua e conta ad alta voce fino a 5 e ah e basta metti una molletta sulla lingua e conta ad alta voce fino a 5 molletta lingua l'ho fatta pure questa allora è figata però ste robe questa falle lo sempre guardate centuria quando mi capitava però dico no ma non farò non farò ecco lo sto facendo adesso però ok passiamo alla stessa domanda scocciati tutta la faccia e leggi la prossima domanda unita di elastico mi leggo un attimo i capelli che se no c'è pure di prendermeli scocciamoci tutta la faccia dice scocciati tutta la faccia e leggi la prossima domanda io non so dicapata a fare ste robe ve li dico non c'ho manco lo speck niente mi sto vedendo pure riprendo i miei capelli aspettate è duro questo aspetta che non mi voglio prendere aiuto quanto cacchietto aspettate mi sa che mi tocca far così perché se no non ce la faccio perché se no ragazze io non ce la faccio e tacca e guarda cosa mi tocca farò guarda cosa mi tocca farò aia non mi si stacca no raghi basta farò una vecchietta qua basta solo così e basta che mi sta affamare i capelli ecco basta così allora se ce la fa parlare ok scocciate tutta la faccia vabbè ho fatto la frutta e basta allora dice scocci tutta la faccia e legge la prossima domanda settima domanda saluta i tuoi iscritti ciao a tutti saluto tutti i miei iscritti come mi vedete so carrenna basta adesso me lo posso arrivare ah si dice ottava domanda strappa lo scoccio dalla faccia con i mani a violenza orco 2 che male è stato freddo che male che male male però è figata fa sti sti video figli ai mia mamma mia che male mi ha fatto rossa qui vabbè ci abbiamo fatta ragazzi ci abbiamo fatta allora non ha domanda la penultima togliti i pantaloni e mettiteli in testa a mo' di turbante allora senza che me levi i pantaloni li vado a prendere faccio prima vero li vado a prendere un paio dei pantaloni e me li metto come turbante arrivo eccomi qua ho preso il parro dei pantaloni miei militari a mo' di turbante allora il turbante non so buono a farlo però ecco tipo così ecco a mo' di turbante più o meno più o meno ci siamo ok andiamo avanti decima domanda l'ultima è il momento del tuo divertimento tagga 5 sfortunati che dovranno fare le stesse cose che hai fatto tu io taggo invece a tutti io taggo a tutti i miei iscritti quindi vi raccomando fate questo video che comunque è stato molto molto divertente mi è piaciuto tanto farlo è stato molto simpatico è molto carino è una cosa diversa molto diversa dal solito è stato molto simpatica come cosa e mi è piaciuta tanto veramente a parte il sale con l'acqua che mi ha fatto morire però vabbè è la molletta talingo oppure necchie ancora Roberto non mi ha risposto come poter vabbè comunque niente io spero che comunque vi abbia anche un po' divertito vi ha fatto uscire anche un bel sorriso insomma dai spero che vi siete divertiti come mi sono divertita io e niente io spero che questo video vi sia piaciuto mettete un pollice in su sotto al video commentatemi e fatemi sapere se lo farete questo video dai fatelo perché è veramente simpatico come video tag anche a metterci la prova col fatto del coraggio sono al coraggio o meno io pare che ce l'ho avuto dei capelli è stato un trauma come non mi sono dovuti tagliare proprio cioè via perché è un pezzetto non è che se vedi tanto cresce me ne frega comunque l'ho voluto fare e niente che dirvi dai veramente spero che lo farete perché è veramente molto molto carino sono curiosa di vedervi io ho visto questo decristile lei è simpaticissima sempre e ha tutte queste cose tutte un po' così strane divertenti mi piace veramente tanto lei quindi ciao un bacione grande quindi io come titolo vi metterò ovviamente anche chi ha ideato questo tag ovviamente e niente dai spero che il video vi sia piaciuto pollice su commentatemi fatemi sapere qual è secondo voi la peggiore prova da fare insomma di coraggio e fatelo mi raccomando sotto i commenti fatemi sapere se farete anche voi questo tag e vi prego fatelo perché è veramente divertente vi voglio vedere e niente vi saluto vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto al prossimo video e piazza scusatevi fatemi sapere se così la luce vi va bene per quel camera come mi vedete se è meglio così o meglio spenta fatemi sapere anche questo vi saluto ciao ciao